Conosci i tuoi campioni, la scheda del tuo idolo. Ha riportato la nazionale ai vertici mondiali dopo l'inopinata sconfitta del 66 con la Corea del Nord. Ferruccio Valcareggi, nato a Trieste nel 1919, inizia la sua carriera nella Triestina, dove esordisce nel 37. Centrocampista votato al sacrificio, milita in A con Fiorentina, Bologna, Vicenza e Lucchese. Appese le scarpe al chiodo, diventa subito allenatore. Piombino, Atalanta, Prato e Fiorentina sono le tappe di Valcareggi, prima della chiamata azzurra. Con la sua guida, l'Italia conquista il titolo europeo del 68 e la finale mondiale del 70, dopo la leggendaria semifinale con la Germania Ovest. Il successivo quadriennio porta gioie, come la prima vittoria azzurra a Wembley, e amarezze, su tutte l'eliminazione al primo turno del mondiale del 74, ultima esperienza in nazionale. Dopo aver allenato Verona, Roma e ancora Fiorentina, Valcareggi muore nel 2005.